... Bernardes parte il tiro la risposta con i pugni, parte di Poletto e grande parata di Pietrancelo, Arnon per Denner, parte il tiro, ottimo cambio di gioco da parte dell'84, il tiro sul primo parco, parte il tiro e vediamo ancora incredibile l'intervento risolutivo da parte di Tulli, Jonas, l'anticipo, attenzione, la grande parata di Pietrancelo, molto importante nella zona bassa della classifica, parte il tiro e ancora la grande opportunità da parte della Cama e parte il tiro, Rosa traversa, incrocio dei pali, Cabeza, parte il tiro, con i pugni la rispitta laterale di Pietrancelo, parte il tiro, clamorosa questa parata Salas non riesce a recuperare il pallone, Portuga dentro, Ferretti, bello buono, poi Diaz A riprenderla, Duarte supera il centrocampo, cambia lato, Salas c'è spazio, il suo destro, Casas allontana Allora, bocca col tiro direttamente in porta, una deviazione, Patias si gira, Casas l'allontana, poi Portuga, parte, Patias, otto secondi, Patias, Casas allontana il pallone, Raubo, Sala, due secondi, Sala, fino in fondo, arriva la sirena Il Matera che riesce comunque ad andare su da Braga, pressato da Leandro, Braga bene per Basile, palo, clamoroso, non è finita Braga, stazione, Di Ponto e Lido riesce ad allontanare Forse con una mano, no? Occhio che parte André Santos, che brucia l'è, frenata dell'Argentino, si accentra, calcia, ottima parata di Di Ponto, calcio ad angolo per il Matera, fallo cumulativo Parte Basile Pallone direttamente in porta, sul secondo palo Altro anticipo, altro recupero, altro tre contro due, Santos Gran parata di Di Ponto La squadra di Grassi, lancio lungo di Parisi Santos, Di Ponto Basile Taglio di Mohamed Extra pass, Santos Ancora una volta Di Ponto Poi calcio a stazione Cado da Mohamed Tre contro uno Palla per Cesaroni 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 Di Ponto Fa un paratone Tenendo vivo il Lido di Ostia Sarebbe stato un colpo veramente da K.O. questo Se ne va via Centralmente Ancora Alonso Mammarella È stato centrale il tiro Adesso è Campoi che prova il numero Ma Coco Wellington Ci pensa e Mammarella Cosa ha tolto Mammarella sul tiro secco di Tiago Cruz Riesce a servire Marcellinio Anticipato da Luisigno Va al tiro Seluzio Che va a prendersi questo pallone Poi lo perde Allora Calderolli Col tacco per Seluzio Grande parata di Tondi Con la mano Tondi a dire di no a Seluzio Fare gli straordinari Adesso riparte la Feldi Spinta dal Palasele Col tiro di Seluzio È la parata di Fabio Tondi E si incarica anche della battuta Caponegro Per Calderolli Calderolli Prova a liberare il destro Tondi Poi Pesca La palla resta lì E alla fine Calderolli Dentro per Pesca Azione elaborata della Feldi Ruba palla Bagattini E poi Grip In profondità Per Marcellinio L'uscita Providenziale Di Carlos Dalcena Caponegro Supera di massa Caponegro Caponegro Bella palla per Seluzio Tondi Ancora una volta A dire di no Dalcin Lancio lungo Tondi Al limite dell'area La palla resta vagante Ci arriva Luisigno E Tondi Compia un altro miracolo Cuzzolino Per Salas Dentro il movimento di Bolo Arriva in area di rigore Super parata di Fiosa Che sbarra la strada È entrato da solo Gli accoppiamenti sono Sono Occhio a cacà Scusami Giovi Perché ha sparato Verso la porta Quest'azione Con il pallone Recuperato centralmente Da Onorio Adesso è il Arca Che è un po' Sbilanciato Fiusa interviene Se ne sono andati Praticamente I primi sette minuti di gioco De Oliveira Prova a scappare via E lo fa bene Mello Poi il pallone Recuperato da Bolo Che spara Fiusa Che ha possibilità Di contropiede Con un altro Tre contro tre Sospinto da Salas Che invita Cuzzolino a calciare Col Mancino E Fiusa De Oliveira Poi cacà Al volo Un siluro Intanto stasera Giovi Oltre ai tamburi Sentiamo anche un altro rumore Però seguiamo il tiro di Bolo Perché Il Pesaro ha rischiato È stato richiamato De Oliveira in panchina E si vede Occhio al tiro qua Subito recupera il Pesaro Con Cuzzolino Che la mette dentro Taborda E poi Fiusa Che allontana Foglia Si accentra Ancora Foglia Allo scarico Per Buaventura Dalla distanza Volo plastico Buaventura Pallone intercettato da Riccia La puntata La respinta Da parte di Moretti 33 secondi Per provare a recuperare Questi tre gol di svantaggio Ancora dal CIN Ottimo In spaccata Lupinella Che esulta Per tirare la rotta In campionato Però sicuramente Un ottimo giocatore Turmena Prova a riscattarsi subito La parata di Martino Giocata ancora Destro Martino c'è Poi l'errore Attenzione Turmena non ne approfitta Poi Urio Dentro Il destro Ancora Con Gagno Che si oppone Gagno ancora Sul mancino di Diogo La finta Lo scarico Il destro di Urio Gagno ancora Si oppone La giocata di Luisa Sinistro La parata di Martino Poi Di Annuca Perugino Sinistro Martino Desimone Grasso Lo scarico per quello Chi può avanzare Il taglio Per la grande parata Di Martino Sulla conclusione Quasi a colpo sicuro Di Luca Desimone La sc Sono La sc еще La sc attaching La sc Quasi a colpo Che se